Siamo pronti per il secondo tempo di Roma Tottenham, ricordiamo il parziale amici telespettatori di Videonola comunque ben ritrovati sulle nostre frequenze per ricominciare a godere dello spettacolo del trofeo Jack qui al centro sportivo Maracanà a Bosco Fangone a Nola. Una gara viva quella che ha finora disputato la Roma insieme al Tottenham, lo ricordiamo, due squadre gemellate, un vero e proprio derby tra due squadre che condividono un forte legame di amicizia, l'insegna dello sport e non solo. Un bello spettacolo anche sportivo quello nella prima frazione, Giorgio. Sì, squadre che se la giocano, belle giocate, belle azioni, pochi gol ma si ripeto se la stanno giocando a viso aperto. Nel frattempo il Tottenham è rimasto con lo stesso setto con cui ha concluso il primo tempo e nel frattempo viene premiata la solidità difensiva di Piccolo che ha guadagnato i valori del campo. Nel frattempo Palo del Tottenham, Piccolo è stato poco attento nella circostanza però è entrato a freddo, ci sta a entrare bene nei meccanismi di gioco in questi primi minuti del secondo tempo. Luis Napolitano avanza, ancora Masi, Napolitano ha cercato ancora i piedi di Viscovo. Rimessa già battuta, Buglione, Nello Cassese, ancora Fabio, Buglione avanza, non trova però un corridoio utile, nemmeno fa Viscovo lo stesso. Ancora Piccolo che cerca la verticalizzazione, forse qui un tocco di mano da parte di Napolitano ed è ancora Viscovo a dare l'azione, ottima la diagonale difensiva di Buglione. Ancora Cassese che cerca la seconda marcatura per portare in vantaggio il Tottenham. Ancora una palla poi giocata lunga da Passarello, stoppa ottimamente Simonelli, cerca assistenza in Piccolo che voleva contracambiare il favore con il suo numero 8. Piccolo si rivolge a Buglione, ancora una palla smistata verso Cassese, chiude tutto Masi. Simonelli subisce un colpo, non c'è fallo però. La palla era uscita però, ancora una rimessa per la Roma. Buglione, attenzione, riesce ad andare via ottimamente. È ancora una palla riconquistata dal Tottenham. Cassese però non trova nessun spazio utile, ancora una rimessa per i bianchi inglesi. Viscovo, sbatte contro il muro Buglione. Bellissima la lotta tra i due fuoriclasse delle compagini che oggi si schierano in campo. Nel frattempo cerca l'invenzione Masi. Voleva premiare l'inserimento di Cassese però troppo lunga la sfera. Palla che arriva a Nello Cassese. Ancora Nello si crea lo spazio, impreciso il passaggio. Sfera che arriva a Buglione. Cerca piccolo, attenzione. Tergiversa chiude tutto Masi. Gian Domenico serve ottimamente Nello Cassese. Che è costretto però ad andare a largo. Ancora Simonelli, tenta col destro, non è il suo piede preferito, si vede. Scende velocemente a terra di Carluccio. Che ricomincia, ancora una volta, indovinate da chi? Da Viscovo. Sì, è Umberto il migliore con i piedi nella squadra. Però questa posizione così arretrata lo penalizza. Mantieni il baricentro della sua squadra troppo basso. Ciò veramente permette alla Roma di fare un po' quello che vuole. La Roma un po' sprecona in questo avvio di secondo tempo. Ottimo comunque piccolo che sta ingranando lì dietro. Sta dando un'importante solidità difensiva. Attenzione, è ora! Miracolo di Passariello. Sì, una grande uscita. Passariello si sta dimostrando veramente meritevole di questo posto in squadra. Guardate, anche qui sicuro nell'uscita. Veramente sta dimostrando di essere una buona figura solida in questa squadra. Buglione alza la testa, cerca assistenza. Si fa vedere sul lato opposto Nello Cassese. Simonelli, 1-2 con Buglione. Ancora Nello Cassese cerca di andare via in velocità a Viscovo che tocca per ultimo il pallone. Battuta subito la rimessa per la Roma, incomprensione tra Buglione e Simonelli. Il numero 8 che riconquista ancora una volta palla. Ottima la finta di Buglione che libera il tiro di Carluccio sicuro. Rimette subito in moto Viscovo, anticipo Netto di Piccolo. Ancora poi un'imbucata, cerca il gol del secolo con l'esterno Simonelli. Per poco sfuma l'azione, gara vivissima, non c'è un minuto di tregua. Arriva proprio ora Giorgio Simonelli. Che cosa stava cercando di fare lì, il gol dell'anno? Guarda, Isi, secondo me fosse stato un po' più lucido, avrebbe fatto gol sicuramente. È stata una grande giocata, come vedi, è molto stanco, aveva bisogno del cambio. Nel frattempo palo clamoroso di Manzi che demolisce il montante. Si è sentito nettamente il suono del metallo. Manzi che ha voglia di spaccare la partita, ora col suo ingresso. Buglione rimane indietro. Manzi può destreggiarsi sia come centrale difensiva. Attenzione a Manzi che ruba il tempo proprio a Viscovo. E poi cerca la conclusione col Mancino, non è il suo piede, palla fuori. Ma è stato bravo perché l'unico problema è stato aver schiacciato troppo. E frattempo, attenzione qui, piccolo, viene ammonito, intervento con la mano. Dichiara di essere spinto, ragionevole nei toni. Però reclama la spinta, professa la sua innocenza. Punizione per il Tottenham. Diciamo che è un episodio controverso questo. Comunque il direttore di gara ha ben saldo le redini del gioco. Scorrettezze non ce ne sono state tranne quell'episodio all'inizio primo tempo. Poi piccolo, cerca di liberare. Attenzione a questa palla che sembra stregata per tutti. Attenzione poi all'imbucata verso Viscovo. Passariello a campo Buglione. Attenzione al ritorno proprio di Viscovo. Si allunga troppo la sfera, il numero due della Roma. Rimessa per il Tottenham. Attenzione, era subito stato cercato Viscovo. La palla non esce. Manzi si fa vedere da Buglione. Poi tocca Cassese. Rimessa laterale. Manzi, ancora Buglione verso Manzi. Manzi che tira direttamente in bocca di Carluccio che è forse uscito fuori dall'area con la rimessa. Era così, infatti. Era netta comunque l'uscita dall'area di Di Carluccio. Giorgio, sei d'accordo? È un episodio un po' sotto inchiesta. Questo bisogna rivedere bene. Dobbiamo farci aiutare un po' da un eventuale replay. Però l'arbitro si è deciso così. Evidentemente avrà avuto le sue motivazioni. Sembra che comunque la sfera sia uscita forse in quella pirouette per evitare l'avversario di Carluccio. Non ha valutato bene le distanze che lo separavano dal campo di gioco e la sua area. A dimostrazione anche che voleva velocizzare un po' la manovra. Aveva visto una Roma forse un po' allo sbando. Secondo me ha fatto bene. Nel frattempo è pronto il destro di Manzi che c'entra in pieno Viscovo. Rimessa per la Roma. Simonelli verso Giampaolo Cassese che perde il confronto col suo omonimo Gianluca. Chiude ancora ottimamente però in difesa Buglione. Rimessa ancora una volta per il Tottenham. Palla giocata all'indietro verso Masi. Nunziata che è rientrato in campo. Palla giocata ancora su Di Carluccio che ha tutto il tempo di gestire il pallone. Cassese riesce a girarsi. Ancora una volta palla riconquistata dalla Roma. Attenzione al tiro di Simonelli. E ancora Buglione che poi difensivamente è insuperabile questa sera. si va un po' a chiudere però qui Buglione perde il confronto con Nunziata. Aspettava l'assistenza dei compagni. Si lamenta il numero due della Roma. Ancora chiude una volta Nunziata sulla battuta di Buglione che è costretto ad indietreggiare. Si riassetta bene però la Roma. Ancora una sfera gestita da Cassese che però sanguina la sfera qui persa da Cassese. Poi il pallonetto è Gianluca Cassese. Punisce la supponenza del suo omonimo Gianpaolo e porta il Tottenham in vantaggio per 2 a 1. C'è un po' una situazione clamorosa qui Isi. Il gioco un po' catenacciaro all'italiana del Tottenham sicuramente sta premiando in questa frazione. Sono passati in vantaggio molto freddo. Gianluca Cassese mette a sede il portiere e poi inzacca facilmente. Difesa della Roma da rivedere. E nel frattempo c'è ricominciata la contesa. Cassese ha la sfera per riscattarsi. Mette a tacere le critiche. Rimette la palla al centro del campo e va ad esultare vicino ai suoi tifosi. Gianpaolo Cassese subito trova il riscatto dalle sceneri come l'araba fenice risorge Cassese. Sì ce l'aveva il vantaggio del Tottenham. Gianpaolo ce l'aveva un po' sulla coscienza però si è subito ripreso. Ha riacciuffato il pareggio. Adesso vediamo un po' se la Roma sarà in grado di poter ribadire la propria superiorità e passare in vantaggio. Due a due. Nulla di fatto. Hanno scherzato le due squadre. Nel frattempo qui Simonelli che deve stare attentissimo. È già ammonito questa scivolata col gioco da terra ai limiti del regolamento. Simonelli ha rischiato grosso qui con l'arbitro che ha comunque il cartellino facile. Sì Simonelli è molto gasato e molto nel vivo dell'azione del gioco però deve un attimino dosare la sua foga ma va bene così. Ancora il Tottenham. Attenzione al mancino di Viscovo Passariello monumentale. è il valore aggiunto questa sera. Sì stasera ripeto sta dimostrando parte della se la partita è ancora in gioco è merito suo ma in questa occasione in collaborazione con Simonelli versione difesa. Attenzione ancora ad una palla gestita male da Cassese e Manzi. Cassese si butta in scivolata per far capitolare le attenzioni offensive del Tottenham nel frattempo time out per le due formazioni. Giorgio prima parte ancora a mille all'ora di questo secondo tempo. Sì a dimostrazione che le squadre non sono stanche vogliono aggiudicarsi la partita almeno i giochi sono un po' più aperti il risultato del pareggio mantiene ma vediamo fino alla fine le emozioni che ci regaleranno queste due squadre almeno per ora sono veramente infinite. Chi può spaccare la partita da una parte e dall'altra? Guardi io sono convinto che vedo innanzitutto un Cassese dalla parte del Tottenham molto ispirato ma l'ago della bilancia lo possono spostare Viscovo nel Tottenham che dovrebbe giocare un po' più avanti e dall'altra parte invece Simonelli lo vedo veramente molto in forma ma Buglione vale per due stasera. l'arbitro fisca e le squadre devono rientrare nel rettangolo di gioco il possesso era giallorosso con Passarillo chiamato alla rimessa in moto del pallone è rientrato in campo anche Nello Cassese al posto di un ottimo piccolo nel frattempo ottima la conclusione di Manzi che chiede una deviazione che sembra non esserci è così l'arbitro ratifica la nostra impressione di Carluccio mette in moto i suoi Cassese cerca il numero Giampaolo Cassese invece può ripartire mette una palla ottima al centro è in ritardo però Gianmarco Manzi è la Roma cerca di vincerla Sì Gianmarco non ci ha creduto poteva andarci questo tiro cross da parte di Cassese poteva essere sfruttato Di Carluccio verso Nunziata ancora lunga verso Cassese cercava una triangolazione con un suo compagno arriva a rimorchio però sull'auto di destra Viscovo impallata ancora una volta la sfera Napolitano cercava l'imbucata Manzi cerca la corsa invece a sua volta di Buglione ottima l'idea un po' meno la realizzazione con Buglione in ritardo però sta dando tutto impossibile criticare fino ad ora il numero due della Roma Nunziata nel frattempo sale a palla al piede per il Tottenham cerca spazio tenta il tiro debole però si arrabbia con se stesso il numero quattro del Tottenham e Passarelli lo rimette in moto il pallone che è già giunto tra i piedi di Buglione Buglione vede l'avanzata di Nello Cassese poi Manzi non riesce ad arpionare la sfera riesce a servire uno dei suoi Nunziata ritorna poi la Roma in difesa Cassese nel frattempo aveva vinto un paio di rimpalli favorevoli e guadagna un calcio d'angolo importante nel frattempo ancora il tiro tentato Napolitano era in controllo però Passarello vediamo se c'è stata la deviazione sembra esserci stata tant'è vero che il Tottenham rimane lì sulla lunetta dell'angolo ancora Fabio Buglione che lotta sull'out di fondo campo attenzione ora al break della Roma ancora scontro Buglione Viscovo il romanista guadagna una rimessa importante Nello Cassese si rivolge al fratello Gianpaolo ancora i due fratelli che dialogano e adaprono su Buglione che tenta il tiro di Carluccio poco sicuro ci aveva provato Nello Cassese ad inzaccare la ribattuta però era attento l'estremo difensore del Tottenham che ora guadagna un'importante rimessa in fase offensiva ma è costretta comunque ad indietreggiare Napolitano allarga verso Cassese chiude il suo omonimo Nello in calcio anzi no in rimessa laterale cerca movimento il Tottenham chiude ancora una volta Gianpaolo Cassese Buglione ricomincia da dietro cerca Gianpaolo Cassese che però sbaglia clamorosamente lo stop rimessa con il Tottenham che già cerca di riorganizzarsi in fase d'attacco Nunziata palla che impatta su Cassese rimessa per i bianchi d'Inghilterra Nunziata cerca ancora una volta la conclusione Sbilenca però ancora una rimessa laterale per la Roma che gioca con Passarillo Nello Cassese alza la testa cerca assistenza cerca l'imbucata per Manzi troppo lunga la sfera e riparte il Tottenham ancora va via Viscovo brecco ora della Roma Aniello Cassese va a scontrarsi con il fratello nel frattempo Fabio Bugione cercava un'imbucata nel frattempo scontri duri tra Nunziata e Giampaolo Cassese che ha subito un brutto colpo cerca di rialzarsi il capitano della Roma mentre recupera a terra Nunziata Giorgio azioni convulse comunque da un lato e dall'altro Sì una partita che sembra una partita che assomiglia più a una partita di ping pong anziché una partita di calcio ribaltoni da una parte e dall'altra però anche caratterizzati da azioni confusionarie poche idee le due squadre si affidano un po' alle capacità individuali dei propri calciatori vediamo adesso se la sblocca Nello Attenzione Cassese è troppo alta la sua punizione comunque la gara sta avvolgendo al termine siamo nelle fasi centrali del secondo tempo magari ora più che la forza fisica che la tecnica conta anche la voglia di vincere di una delle due squadre Sì la voglia di vincere ma anche la lucidità in quanto si è corso tanto Attenzione Nel frattempo clamorosa l'occasione divorata da Manzi ottima l'idea di Buglione la sua assistenza e Buglione indovinate dov'è a difesa sta correndo come un dannato lui forse quello che in questo momento può spaccare veramente la partita Sì Buglione migliore in campo assolutamente lui e Viscovo si giocano un po' la palma del migliore io la darei a Fabio perché è stato nel frattempo Simonelli sfortunato apre troppo l'esterno e purtroppo lui è tutto Mancino non poteva concludere di destro da quella posizione anche perché era in corsa la coordinazione era difficile da trovarsi sì però la poteva agganciare l'ha agganciata bene poteva aspettare un po' di più è stato troppo frittoloso Francesco comunque attenzione qui a Manzi Manzi cerca di destreggiarsi con un palleggio da giocoliere e il Tottenham guadagna una rimessa laterale e chiama il cambio di battuta il direttore di gara quattro secondi passati e il Tottenham può soffrire di questo break offensivo inaspettato ancora palla sui piedi di Simonelli che perde però questa volta il rimpallo nel frattempo ancora Nello Cassese che cerca l'assistenza con i compagni e Di Carluccio è in possesso della palla Napolitano Cassese attenzione ha spazio per provare il tiro chiude tutto Buione e qui era pericolosa l'avanzata del numero quattro del Tottenham e può riorganizzarsi la Roma ma anzi palla tra i piedi per lui cerca il tiro ancora di Carluccio ed è camoroso cosa asciupa Simonelli che era solissimo davanti alla porta poteva insaccare senza problemi il gol del possibile 3 a 2 qui la Roma ha dimostrato di volere il vantaggio ci prova ancora Nello ci prova vedi la Roma ancora qui si è arrabbiato Umberto non era del parere dell'arbitro noi frattempo calcio d'angolo e qui sportività da parte di Nello Cassese che su una situazione discutibile con i giocatori del Tottenham che protestavano vibratamente regala la palla a Di Carluccio al portiere e consente a Tottenham di riorganizzarsi Viscovo cerca l'imbucata verso Cassese è lì il suo omonimo Nello ancora palla per Gianluca Cassese che riesce ad andare via ed è incolpevole ritardo il suo compagno Masi cerca Viscovo la sua imbucata però è imprecisa e il numero due del Tottenham si rivolge a Di Carluccio che la mette lunga non tocca Buione palla che sarà preda di Passariello che è chiamato alla rimessa in gioco Buione alza la testa cercava Nello Cassese ancora un contrasto perso dalla Roma ancora la sfera che arriva sui piedi di Napolitano risponde presente Passarello tiro centrale quello del numero 10 del Tottenham attenzione a Daniello Cassese che la mette sui piedi di Manzi poi subisce fallo dall'estremo difensore che era già stato ammonito forse qui poteva starci il secondo cartellino giallo per Di Carluccio probabilmente l'arbitro è stato di buon cuore qui si nel frattempo punizione pericolosa per la Roma Giorgio mi sorprende che non ti ribuglione forse un po' stanco anche Fabio ha bisogno di riposarsi è parso un po' superman in questa partita in attacco in difesa recuperi diagonali ogni presente ma vediamo Manzi Manzi cercava un'apertura nella barriera può riprovarci il numero 6 di Carluccio con i pugni ancora Giampaolo Cassese che cercava il suo numero 6 una deviazione di un giocatore giallorosso premia il Tottenham che guadagna una rimessa laterale Viscovo attenzione poi a Cassese che cerca un retropassaggio rischioso verso Bugione poi Manzi allarga verso Nello Cassese che forse si trascina il pallone fuori vediamo se è rimessa dal fondo o laterale sarà dal fondo anzi no mi correggo chiedo scusa rimessa laterale già battuta una masi che si è rivolta a Di Carluccio lancio troppo lungo che finisce direttamente nei guantoni di Passarello che rimette ancora lungo verso Manzi troppo alta la sfera è un ping pong tra i due portieri in queste fasi Napolitano in pallo che favorisce Viscovo riconquista poi palla Nello Cassese che è braccato da Luigi Napolitano che tocca la palla e la consegna ai guantoni di Passariello Nello Cassese la mette sui piedi di Bugione vede la corsa di Giampaolo che la mette in mezzo per Manzi e c'è il gol di Gianmarco Manzi che porta in vantaggio la Roma quando la partita si stava andando a spegnere e viene ad esultare sotto il suo ex allenatore a cui chiede smancerie di vario genere Giorgio però in questo frangente voleva forse seppellire l'ascia di guerra non è la sedia adatta per parlare di questo parliamo di calcio la Roma è passata in vantaggio testardamente il Tottenham un po' stanco si è spenta un po' la luce si è spento Viscovo ha lavorato tantissimo la Roma deve bene gestire questo gol fondamentale attenzione a Di Carluccio che addirittura esce dalla propria porta all in del Tottenham quando manca oramai pochissimo al termine del match ancora un calcio d'angolo per i bianchi di Londra spera che resta lì vediamo se Cassese vince il rimpallo no attenzione c'è fallo forse su Napolitano attenzione a Nello Cassese palla che resta lì fermato però da Viscovo chiude tutto Buione vince ancora il rimpallo Viscovo e c'è il pareggio del Tottenham qui la supponenza della Roma è stata nuovamente punita defiance difensiva letale per la Roma si si è corretta la tua la tua dinamica ma io devo aggiungere straribante Viscovo e qui finisce la partita incredibile gara persa proprio sul filo del rasoio dai giallorossi una palla sanguinosa persa da Nello Cassese lì sulla linea del centrocampo bisognava gestire la palla e come il calcio ci insegna la supponenza è figlia dell'errore è un errore sanguinoso per la Roma che vede sfumare negli ultimi 15 secondi tre punti importantissimi cuore dei londinesi cuore del Tottenham che invece viene premiato è il gol decisivo non poteva che segnarlo lui un Viscovo trascinatore che condanna ai ai giallorossi un misero punto che per quanto espresso in campo ai punti magari meritava il bottino pieno questa sera Giorgio sì giustamente come hai sottolineato la Roma probabilmente i punti avrebbe vinto meritava forse questi tre punti ma questo risultato è figlio degli errori della Roma il gol subito in fase di sbando dove la difesa non era ben organizzata forse con un argenziano in più lì davanti avrebbero chiuso la partita da tempo questa è una frecciata gratuita per la dirigenza della Roma andiamo però a approfondire tutti i temi di questo Roma Tottenham che ricordiamo si è concluso sul 3 a 3 finale andiamo negli spogliatoi per approfondire tutti i temi di questa emozionante sfida del trofeo Jack valida per l'undicesima giornata qui al centro sportivo Maracanà siamo con l'MVP l'uomo del match Fabio Buglione una sfida importante persa veramente da all'occhi qui al Maracanà un Roma Tottenham però vivo tu oggi veramente monumentale lì dietro a dare solidità la difesa in attacco propositivo poi sbloccato anche il match si la partita si è messa subito in discesa soltanto che purtroppo alla fine abbiamo peccato di negligenza e niente l'abbiamo pareggiato all'ultimo cosa vi è mancato oggi per portare i tre punti a casa? ma la cosiddetta cazzimma proprio la cazzimma è mancata perché lì non si può perdere una palla così all'ultimo secondo e prendere gol magari sfruttare l'astuzia dei giocatori lì Nello Castese ha perso forse una palla sanguinosa al centrocampo dove magari mirare la porta e guadagnare la famosa bandierina per temporeggiare era fondamentale sì sicuramente anche perché ripeto era proprio la fine mancavano pochi secondi quindi sarebbe stato l'ideale però va bene così non fa niente cerchiamo di imparare dai nostri errori anche se puntualmente li ripetiamo però ultima battuta lotta in testina tra presidente e allenatore tu che sei uno dei pilastri dello spogliatoio cosa pensi? No io nelle questioni dirigenziali io non metto bocca però spero quanto prima che si risolva il migliore dei modi questa diatriba che si poteva creare Presidente Napolitano oggi un punto preziosissimo guadagnato quando oramai sembrava vuota la casella dei punti oggi per il Tottenham diciamo che un punto guadagnato perché è arrivato in extremis però comunque diciamo che il pareggio ci stava e quindi non abbiamo nulla da discriminare una gara viva sin dai primi minuti di gioco una gara che comunque è stata una tra le più belle tra quelle disputate finora al trofeo Jack oltre ai valori dell'amicizia è stata una gara all'insegna sì della correttezza ma anche dell'agonismo sportivo infatti come hai detto era una gara sentita vabbè perché eravamo tutti tutti amici in campo e quindi alla fine è uscita una bella partita infatti il pareggio mi ha detto è giusto anche fra amici diciamo Di Carluccio tra i pali si è perso molto lì davanti forse è stata anche questa una delle chiavi del match che cosa è successo lì nella porta del Tottenham purtroppo abbiamo il portiere fuori quindi Michael che diciamo è un portiere infatti si è visto in campo comunque è stato un ottimo elemento è solo che abbiamo perso un attacco perché comunque Michael ci dava velocità che cosa che non abbiamo potuto sfruttare e abbiamo puntato sulla qualità di Cassis in mezzo al campo un Tottenham che si sta rilanciando in classifica quali gli obiettivi a medio termine ci divertiamo partita dopo partita speriamo di raggiungere l'obiettivo Europa League per poi giocarcela quando sarà e siamo qui con il commentatore il giocatore preferito dai amanti del trofeo Jack Gian Domenico Piccolo che oggi ha smesso le panni ufficiali di commentatore per investire quelle sportive di calciatore di difensore Arcigno qual è? una gara sentita quella con il Tottenham Gian Domenico come l'hai sentita tu invece dal campo? guarda con la Roma è un discorso aperto dallo scorso anno con Patron Cassese cerchiamo di fare una squadra di amici e oggi abbiamo giocato contro altri amici è stata una sfida emotivamente molto forte l'abbiamo persa nel finale nel senso che emotivamente siamo andati un po' sotto negli ultimi secondi è mancata la concentrazione necessaria per portare a casa i tre punti e ne è venuto fuori un pareggio che ci lascia soddisfatti a metà una gara che pareggiarla così fa male anche perché la Roma cerca il rilancio in classifica attualmente è stazione in quella posizione di metà graduatoria che magari non rispecchia i reali valori della squadra una gara pareggiata quella scorsa al photo finish oggi risuccede la stessa cosa cosa manca alla Roma? effettivamente manca un po' di lucidità mentale negli ultimi secondi sarà anche che a volte i calciatori arrivano all'ultimo minuto senza aver magari ruotato riposato quegli attimi necessari nei frangenti di gioco meno duri e si arriva alla fine che si rischia poi di pareggiarle come è successo la volta scorsa col Fenerbahce come è successo adesso con il Tottenham e sono quattro punti meno in classifica per noi che magari potevamo trovare il rilancio e affacciarci ai quartieri alti in classifica purtroppo impareremo un po' la volta dai nostri errori in sette giorni non si modifica totalmente l'approccio mentale di una squadra ma lo stesso modo di volta in volta cercheremo sempre di far tesoro dei nostri errori sette giorni Roma guardo è più che becche societari preferisco parlare di un ambiente molto dinamico molto vivace che vuole dire la sua ogni persona ha a cuore la squadra e a suo modo cerca il meglio della squadra quindi ci può stare qualche confronto verbale l'importante è mantenere sempre toni civili e toni soprattutto costruttivi per ciò che è la nostra realtà la nostra Roma quindi un po' alla volta si risolverà tutto secondo me grazie e siamo ancora qui non si è concluso questo ampio spazio dedicato al trofeo Jack dobbiamo chiarire la situazione in casa Roma ed abbiamo i protagonisti del diverbio che ha animato questi ultimi giorni in casa giallorossa Giorgio Lisio mister dimissionario e il presidente Cassese andiamo per gerarchie Giorgio non volermene parola a presidente che cosa sta succedendo in questa settimana in casa Roma ma niente di gravissimo ovviamente voi giornalisti dovete sempre gigantire le cose c'è stata una una discussione stamattina che chiariremo sicuramente quindi anche le dimissioni non ho avuto nessuna dimissione sulla mia schionina da Lisio quindi non vedo perché parlate di dimissioni nel frattempo Patron Cassese muove in azioni verso i giornalisti ma di fatto rimane il gioco di parole che mister Lisio questa sera non era sulla panchina giallorossa mister forse Patron Cassese non accetta nemmeno le sue dimissioni Patron Cassese invece dovrebbe accettare i consigli che gli vengono dati sempre ovviamente ribadendo che l'ultima parola è la sua è un bel gesto da parte sua mi ha teso la mano però ho bisogno di pensare perché diciamo la sua decisione di declinare i due acquisti non l'ho ancora digerita comunque lui ha cercato subito la pace e in campo il suo gol è venuto a dedicare a Lemister sì è una cosa molto carina lo ringrazio per questo però dovrebbe essere più incisivo in campo questa partita si doveva e bisognava essere conquistata una partita persa al fotofinish l'ennesimo pareggio arrivato per disattenzioni difensive presidente comunque c'è qualcosa da registrare sicuramente nella Roma il problema è che noi non sappiamo né vincere né perdere quindi dobbiamo imparare sapete pareggiare esattamente dobbiamo imparare una delle due cose è rammarico per questa partita soprattutto per l'altra perché eravamo in vantaggio fino a pochino dalla fine e veniamo sempre raggiunti forse il problema nostro sappiamo gestire il risultato più mentale che nei valori sportivi no mentale penso anche fisico perché comunque caliamo troppo nel finale però ci può stare fisico comunque con due campi in banchina è abbastanza paradossale come situazione ti vorrei ricordare i cami in banchina e lo status fisico degli atleti Isidoro avevate un piccolo che comunque ha dato una valida mano nella retroguardia rodaggio diesel per lui ma poi un paio di chiusure di concedermi questa cosa non so più come fare con la fascetta gialla firmiamo una petizione contro quella fascia gialla inguardabile di piccolo fascetta gialla o no ma comunque ha saputo dare difensivamente un'importante mano come mai la mano ha dato la mano ha dato col cartellino giallo che ci ha salvato in un certo senso perché stava prendendo gol comunque sì nel complesso abbiamo giocato tutti in una buona partita si doveva vincere però purtroppo è questo il bello di questo sport in conclusione padron Cassese mister Lisio si può giungere alla pace oppure è un sodalizio che è destinato purtroppo a spegnersi prima mister Lisio le dimissioni sono confermate poi più in là non so se è il caso mai non lo so vediamo un po' non lo so c'è un Lisio figlio prodigo figlio al prodigo noi parleremo con le telecamere mi dispiace io non posso parlare davanti alle telecamere perché sono come si dice i panni sporchi si lavano in famiglia quindi io non aggiungo altro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti